Sono gli stessi espositori che esaltano il successo del mercatino di Natale disposto nel centro di Trieste. Il gran flusso di gente fra residenti e turisti, molti di questi stranieri, hanno premiato l'offerta del capoluogo che si è contraddistinta dalla qualità dei prodotti messi in vendita. Quest'anno infatti, secondo me, secondo noi, anche grazie al tempo che è stato mite, non abbiamo avuto grandi freddi o pioggi intense, c'è stata una grossa affluenza soprattutto di turisti, di stranieri che sono venuti a visitare il mercatino anche tante volte complimentandosi con l'offerta che hanno trovato qua a Trieste rispetto agli altri anni. Quindi c'è stato un netto miglioramento, direi, soprattutto della qualità del mercatino. E c'è una complicità in questa buona resa, ovvero il leggero calo che hanno riscontrato gli omonimi mercatini delle città estere vicine a Friuli, Venezia e Giulia. Da quello che abbiamo sentito, proprio da clienti che abbiamo avuto sia della Slovenia che della Croazia, ci riferivano che quest'anno nelle capitali come Ljubljana o Zagabria, appunto, c'è stato un lieve calo, secondo noi, forse del numero di espositori, della qualità oppure degli addobbi natalizi. Questa è stata una lamentela molto sentita in questi giorni. E per l'ultimo giorno dei mercatini ci saranno alcune particolari iniziative. In piazza Sant'Antonio, l'indomani della discesa della Befana nella Grotta Gigante, verrà offerto il Grand Pampel. Avremo la fortuna di avere qui con noi il gruppo di speleologi della Grotta Gigante che faranno il Grand Pampel e questa bibita che si usa a fare durante l'Epifania. La faremo qui davanti in piazza, che sarà un simpatico spettacolo per gli avventori. Quindi quel giorno offriremo a tutti quanti, come chiusura del mercatino di Natale, questa bibita magica.